Settima corsa, europei e indigeni di quattro anni ed oltre, non vincitori di due primi premi dal primo ottobre a reclamare sulla base dei 4.000 Euro per i quattro anni. 2.060 metri, uno Izzalo e Cosimo Vangelosi, due Radame Soggetto e Walter Lagorio, tra le tentazioni Car, Marcello Lettieri, quattro Principe di Mare, Mauro Angeletti, cinque Ocean Drive, Massimiliano Castaldo, sei Roger Lag, senza perri, Luca Schettino, sette Serena, senza perri anteriori, Edoardo Lo Cisano, in seconda fila otto, te dopo Rozzac, Michela Racca, nove Tata Sam, Andrea De Muru, dieci Ortis di Pippo, Angelo Nudi, undici Maion Dei Greppi, Elvis Vessichelli, dodici Nadino, senza perri anteriori, settimio Fabio Pollo, favorito Roger Lag. Autostart che completa l'arco della piegata di fondo e fa l'ingresso indirittura per l'operazione di stacco dei 2.060 metri, favorito Roger Lag contro favorito Principe di Mare. Aumenta velocità l'autostart, va per liberare i concorrenti. Ocean Drive precede risalda poi all'esterno Roger Lag, 3,4 per gli iniziali 60 metri, stando in piegata all'avanguardia Ocean Drive, Ocean Drive sta passando in vantaggio, completa ai 2.060 in 18.3, 14.9 per gli ultimi 200. Ocean Drive ha perfezionato il sorpasso ed è così al comando. Nei confronti di Rizzal, in terza posizione Principe di Mare con alato Roger Lag che però sbaglia, così in quarta c'è Radames Jett. Numero 6, Roger Lag, squalificato. Tacco della seconda piegata con Ocean Drive in vantaggio, il suo esterno si profila Rizzal, 49.3 per i 6.60, 14.7 la media, 16.20 per gli ultimi due. Si esce dalla piegata con Rizzal in vantaggio, percorsi esterni Principe di Mare che ha lato di Ocean Drive, 1.056 per gli 8.60, 32.3 il quarto, 16.3 per gli ultimi due. Principe di Mare rileva Rizzal al comando, così il nuovo leader Principe di Mare che passa ai 1.060 metri in 1.22, 14.6 200. che la retta, attacco della penultima piegata con Principe di Mare in vantaggio, poi all'esterno c'è Nadino, sbaglia intanto Rizzal. Numero 1, Rizzal, squalificato. Agli 800 finali il tempo è di 1.36.4, 38.4, 16.2 per gli ultimi due. Nadino che sta attaccando Principe di Mare, poi in terza lungo la corda Ocean Drive, quarto in fuori, Maion dei Greppi, quindi serena. 600 finali, tempo 1.52 netti, gli ultimi duecento in 15.6, sempre sta passando Nadino, Nadino avanti a Principe di Mare, in terza posizione Ocean Drive, Nadino, Principe di Mare, Ocean Drive, poi Maion dei Greppi, gli ultimi duecento in 14.8, il quarto in 34, siamo a media di 16.4, ingresso addirittura con Nadino che passa al comando, è inseguito da Ocean Drive, Ocean Drive in progressione, prova a portarsi su Nadino, interviene a largo anche Serena, Ocean Drive insiste nell'attacco a Nadino, nel finale Ocean Drive, poi Nadino e Serena in l'op per la piazza, 14.7, gli ultimi due, 30.6, il quarto conclusivo, tempo totale 2.37.4, media al chilometro della vincitrice, 1.16.4, 5 Ocean Drive, 12 Nadino, 7 Serena, il podio della settima corsa.